La Fiera si presenta con una struttura che finalmente è quella che avevo sempre sognato, quindi con percorsi interni assolutamente fruibili. Abbiamo abbattuto un'altra parete per consentire che ogni zona della Fiera fosse fruibile. Abbiamo, credo, già superato abbondantemente i 2.000 buyer pre-registrati e contiamo di arrivare a 3.000 per il giorno dell'inaugurazione. Quello che mi aspetto è che il mercato risponda. Non basta una Fiera Bella far ripartire il mercato. È necessario in questo momento che ci sia una volontà comune di intervenire con tutti gli strumenti dati, anche a livello governativo, per sostenere un settore così importante.